Mi trovo nelle vicinanze del fiume Galeso, precisamente sotto la strada, sotto il ponte per così dire che percorrendo il quale si arriva a Punta Penna. Quindi una zona, uno dice bellissima perché parliamo del fiume Galeso, celebrato ovviamente anche da Virgilio, come tutti sapete, un patrimonio storico, naturale della città di Taranto e della nostra provincia e non solo. Ma alle mie spalle, proprio in quest'area insistente, dicevo questo ponte, una discarica permanente a cielo aperto. Viene scaricato, abbandonato di tutto, di più, dal materiale di risulta proveniente dall'edilizia, mobili vecchi, abbandonati e distrutti. Insomma un qualcosa di osceno, di incredibile che si, ripeto, aumenta, proprio aumenta di volume sempre più. La cosa che mi fa specie, e quindi qui bisognerebbe davvero darsi da fare, è che siamo a due passi dall'ARIS. L'ARIS è l'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, diciamo un settore, diciamolo così, volgarmente, della forestale. Signori cari, massimo rispetto per il vostro operato, ma più o meno dovreste anche voi sapere, vedere questi traffici che avvengono, questi tre ruote o questi camioncini che passano e spassano anche davanti al punto in cui state voi, perché devono per forza più o meno transitare da lì. Ecco, vorremmo che anche voi vi deste da fare per denunciare, per segnalare questa situazione. E' una competenza che è provinciale, ma anche comunale, dovremmo vedere di preciso, ma in ogni caso, quando anche fosse provinciale, solo ed esclusivamente provinciale, poi c'è comunque la responsabilità del comune, visto che l'area insiste, diciamo, nel comune di Tarot, e poi alla fine il soggetto è sempre lo stesso, presidente della provincia e sindaco è sempre Rinaldo Melucci, non si scappa. Bene, è mai possibile che qui possa accadere di tutto, che si possa realizzare una discarica permanente, infinita, senza che nessuno intervenga, senza che vi sia un controllo, un controllo permanente, ovviamente in unione, in collaborazione con le forze dell'ordine, non dico solo i vigili, ma un'attività coesa con le forze dell'ordine o con gli organi preposti al controllo e alla sicurezza, anche perché si vedono da queste parti traffici giri piuttosto strani. Ma al di là di questo, e poi, oltre al discorso del fatto che si abbandona di tutto, di più, è una discarica a cielo aperto, è la rimozione di questi rifiuti. Non esiste, non avviene, non deve mai avvenire. Cioè qui si abbandona di tutto e devono crescere all'infinito i rifiuti, senza che vengano tolti, che vengano eliminati, che vengano rimossi, è possibile una cosa del genere? Ma scusate, siamo a Taranto, in una città di un paese civile, di un paese democratico, o stiamo in una zona del terzo mondo, o siamo in una zona in cui la legalità non esiste? Mi pongo inquietanti interrogativi. È davvero un peccato che una zona così meravigliosa sia abbandonata, si trovi in uno stato del genere. In altre parti d'Italia verrebbe certamente riqualificata, verrebbe resa fruibile per la collettività e sarebbe davvero un fiore all'occhiello. Qui purtroppo regnano il degrado, l'abbandono e le discariche. Quindi, caro Melucci, datti una bella mossa. Grazie.